Ciao a tutti e bentornati nella mia cucina. Oggi prepariamo insieme il calzone di cipolle. Chimane. Iniziamo pulendo le cipolle. Le cipolle che ci serviranno per fare il calzone sono queste, che si chiamano sponzali. Da non confondere col cipollotto fresco o con il porro. Quindi eliminiamo un po' di parte verde. Le cipolle, la radice e le foglie esterne, quelle che sono più dure. Facciamo un taglio e le eliminiamo. Così. E quindi le mettiamo in acqua per eliminare il terreno che si è depositato sulle cipolle. Dopo aver mondato le cipolle, le abbiamo lavate. E quindi le andiamo a tagliare. Così. Naturalmente le dobbiamo risciacquare. Perché anche all'interno della cipolla c'è del residuo di terra. Se incontriamo delle foglie più dure, le eliminiamo. Dopo aver lavato per bene gli sponsali, le andiamo a soffriggere in olio extravergine di oliva. Aggiungiamo il sale. Copriamo. E facciamo cuocere le cipolle dolcemente. Non si devono assolutamente bruciare, devono soffriggere delicatamente. Nel frattempo prepariamo l'impasto per il nostro calzone. Alla farina ho aggiunto già il sale e un pizzico di zucchero. Aggiungiamo l'olio extravergine. Per tutte le dosi ed ingredienti, fate sempre riferimento al link che metterò nel primo commento e che vi porta direttamente nel mio blog. Cucina con me, graziele raffaele.it Facciamo assorbire l'olio dalla farina. Aggiungiamo il vino bianco caldo poco alla volta. E andiamo ad impastare. Doviamo ottenere un panetto morbido. Ottenuto questo composto morbido, ci trasferiamo sul piano da lavoro e lo andiamo a impastare. Quindi, lo riponiamo in una ciotola e lo facciamo riposare per una mezz'oretta circa. Nel frattempo, le cipolle continuano a cuocere. Quando le cipolle sono cotte, le prendete e le mettete in un colapasta per eliminare il liquido in eccesso. A questo punto, io aggiungo già l'uvetta così che col calore delle cipolle comincia già a reidratarsi. e andiamo a mescolare. Aspettiamo naturalmente che le cipolle siano ben fredde per realizzare il calzone. Dividiamo il nostro impasto a metà. Le prendiamo una parte e le andiamo a stendere. Aspettate che devo spostare un po' di cose. Mi raccomando, lo dobbiamo stendere abbastanza sottile. Steso l'impasto, verifichiamo che sia sufficiente per foderare la nostra tortiera. Arrotoliamo il nostro impasto sul matarello e lo andiamo ad adagiare sulla tortiera. Così. Facciamo aderire bene i bordi. E per il momento non tagliamo l'eccesso. Funzzecchiamo la base. Mettiamo le cipolle. Fredde, mi raccomando. Le sistemiamo su tutta la tortiera. Così. E adesso andiamo ad aggiungere le olive. Io sto aggiungendo metà baresane e metà leccine. denocciolate. Con l'altra metà dell'impasto ricaviamo il coperchio per il nostro calzone. Quindi, arrotoliamo e andiamo a ricoprire. Così. Ok. e quindi adesso possiamo togliere la pasta in eccesso facendo o col matarello così così viene bella precisa oppure semplicemente ripiegando i bordi. ecco fatto. Ora andiamo a ripiegare i bordi così così con la forchetta andiamo a sigillare i bordi e facciamo anche un ricamino così e quindi andiamo a punzecchiare anche la parte superiore del calzone in modo che in cottura non si gonfi Ora lo andiamo a cuocere in forno caldo a 180 gradi per circa 30 minuti comunque dovete sempre controllare la cottura del vostro forno Il calzone di cipolle è pronto lo andiamo a tagliare ed eccolo qui Grazie a tutti per aver seguito anche questa videoricetta Se ti è piaciuto il mio calzone di cipolle lascia un like e condividi Ciao